Sì, ci siamo messi già sotto per Cagliari anche perché non c'è tempo da perdere, bisogna dimenticare la sconfitta di Bergamo e subito affrontare la partita di Cagliari che credo che possiamo fare bene, credo che possiamo fare punti. Certo, bisogna ragionare partita dopo partita, ecco perché ho detto che dimentichiamo subito la sconfitta di Bergamo perché è passato, pensiamo al Cagliari, pensiamo a lavorare bene abbiamo iniziato oggi abbiamo lavorato molto bene e cerchiamo di continuare così e dare massimo anche il namento che poi ci paga la domenica. Sì, sono molto contento della possibilità che mi ha dato mister io sono arrivato dal primo giorno che ho detto che mi metto a servizio della squadra io mi metto tutta la forza e la voglia e poi sta sempre la mister decidere chi fa giocare e non fa giocare io sono qua per dare una mano io sono del Crotone ci tengo tantissimo vuoi continuare così vuoi continuare a fare bene so che posso fare di più devo fare di più anche perché abbiamo bisogno di fare punti per raggiungere il nostro obiettivo che è la salvezza ovviamente il merito di tutti i ragazzi e anche lo staff mi fanno sentire bene non mi fanno mancare niente sia in campo che fuori dal campo sono sempre disponibili mi hanno fatto sentire subito a mio agio quindi ringrazio veramente tutti i ragazzi tutta la società e lo staff che mi hanno fatto sì che tutto questo sia possibile grazie a tutti i ragazzi grazie a tutti i ragazzi grazie a tutti i ragazzi